ehi la giurma io sono mazzetest e come promesso andiamo a trovare questi di slimmer sono un po incacchiati con me no mi spiace non so cantare come cantano cioè fanno della roba in più che non so ancora fare questi era un cantare quello è no ragazzi mi spiace non sono capace fare quelle robe la con le mani non ce le ho le mani quindi è stato un piacere ma che case ce l'hanno con me via 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 vattene ma perché ce l'hai con me ho cercato di essere carino e coccoloso e tutto mi ha ucciso anche l'alleato ma porca miseria ok recupero vita andiamo a vedere qualcosa abbiamo aruminantico canto di livello 4 si 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 no copiamoci o copiamoci selvaggiamente chi è che mi ama ah ok perché non era già mio ma era della mia specie comunque si ma ok si era un po bugato la 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 guarda che codina che ho ma io sempre la femmina ho yeah un grandissimo uovo del kaiser no vabbè è il nostro futuro è il nostro futuro antella che faccia cosa sono di più no mettiamo delle braccia forti no aspetta è un po' un braccino a corte voglio delle braccine sottili si 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 braccine sottili braccio sottili perfetto ma anche i ginocchi qua scusate li voglio più sottili non è che ok così mi piace vediamo questo qua è kaiser kaiser però ha morso 2 e canto 4 le maniche o quali ho è un po' il po' il livello 2 no più che altro io punterei più che altro sul canto quindi togliamo questo e posso mettere questo si 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 lo metterei così è un cavallo lol mettiamo gli occhi un po' più in su così però guarda dritto davanti a te così però appunto adesso non avrò più abbastanza punti per le mani infatti se tolgo queste mani quanti punti mi da 20 si e mettiamo le stesse star 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 così a posa di livello 2 perfetto 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 Lui veglia sul piccolo e poi il piccolo adesso nasce e cresce e muore No, non ancora Che brutta faccia Che brutto che sei Ma piccolo, guarda sei brutto Devo seguire gli altri Devo seguire gli altri Ah, per imparare a posare Padadà Sì, cresci dai che dobbiamo muoverci Dobbiamo migrare come dei Degli sciocchi Migra che ti migra Migra che ti migra Tra l'altro è lento come la muerte Anzi la muerte è più Veloce di lui Papapero Qua c'è da morire Zoppi Perché Vai 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 Prendi quello Ha lasciato il ragnetto Vabbè Il ragnetto ho detto Ha delle mani in posa 3 Posso Ma così sono già miei amici Da quando Ok, è con me I amè I amè Ma quali erano quelli Che avevo incontrato prima Forse Poi hanno Abbiamo trasmigrato qua La trasmigrazione È notte o è giorno Forse è notte È giorno È giornotte È nottorno Vai Piatto ricco Me lo ficco No Nel senso Mi ci ficco Ma siamo già arrivati a casa Ma è tutto sto casino Per due passi Potevate dirlo Che andavamo a fare una scampagnata Potevate dirlo Potevate dirlo Eeeh Sotto la cutscene Che c'è la scampagnata Tira pure un calcio al uovo Ma sei un cane No Un cavallo Eeeh Calpessano Tututututu Yeah Sì Hanno fatto tipo un villaggio Che Vabbè Qui nasceranno le tue future generazioni Ho preso anche 25 punti Eeeh DNA Magari potrei Usarli per farmici qualcosa Ma No Forse ora non è il caso Effettivamente O poca roba No dai Ma che che Cioè Cicicicicicicici Facciamo il trenino No Tututututututore Tutututututurre OLEE BALABUH YEAH Niente, posa a livello 3 Non possiamo permettercelo Sembra di no Dei piedi più veloci? No Ballo 1 Non abbiamo ballo ora Ballo 2 Ballo 1, però è più veloce Ballo 1, ballo 2 Io farei ballo 2, velocità 2 Tolgo questi Questo è ballo 2, velocità 2, sì Ok E poi vediamo se possiamo permetterci qualcos'altro Tipo Qualcosa di fascino Fascino 1 25 punti O altrimenti mettere delle altre mani Quelle che ci danno posa 3 Ma non possiamo permetterci Tanto quelle, anche se cambiamo quelle Io metterei queste erbette qua E volevo tipo ingrandirle Ah così, sì Tipo un'arena Così Sì Sì È la cosa più bella che io abbia mai visto Andiamo Anzi io direi niente Andiamo Ragazzi Se volete seguire che cosa succede al nostro mozzo Ehm Detto anche È membro della ciurma E quindi Uh anche l'altro ha fatto l'uovo Che denino Ah mi dice posa E noi posiamo Ah no è fascino questo Posa l'abbiamo già fatto Adesso ci farà il ballo O no Tutorial ballo Ehm E viva cresce Vi invito a lasciare un mi piace E Un commento E Iscrivervi E detto questo Noi ci vediamo con il prossimo episodio Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti